L'obiettivo più a portata di mano per Federica Pellegrini sembra ora come ora l'appuntamento con le Olimpiadi di Rio de Janeiro fissate per il 2016. Su di lei, come in ogni gara importante, ci saranno gli occhi del mondo intero. Le aspettative sono sempre altissime, ma in questi anni la campionessa ha imparato a gestire l'attenzione ed è cresciuta molto. Nonostante ciò, pare che calate le luci sul rio, Fede si eclisterà per almeno un anno dal mondo del nuoto agonistico, come ha rivelato in un'intervista rilasciata a Repubblica. Il tempo di stop potrebbe servire o a mettere in cantiere un figlio con il compagno Filippo Magnini, oppure a promuovere al meglio il suo nuovo libro, Il mio stile libero. Fede fa sapere che dietro questa decisione non si celano incarichi con la federazione con cui ammette di non intrattenere rapporti idilliaci. Intanto anche Magnini, che ha più o meno gli stessi obiettivi della fidanzata, trova il tempo di promuovere la sua raccolta fotografica dal titolo Beyond the Water. L'intero ricavato sarà devoluto in favore dell'Associazione Italiana contro le Leucemie, di cui il campione è testimonial.